Ciao, oggi giochiamo DOOM è passato di tempo da quando è uscito però non ho avuto l'opportunità di giocare questo gioco però ecco ci siamo lo sarò lo sarò mi farò a bene lo sarò ho giocato il primo DOOM poi ho giocato quello che era uscito al Super Nintendo poi ho giocato il DOOM 3 questi DOOM ho giocato il movimento è fluido ma molto molto fluido la grafica è bellissima cosa c'è qua penso che dobbiamo la grafica la grafica grande la grafica impossibile determinare la causa dell'invasione fino al riavvio del satellite del dipartimento risorse benvenuto sono il Dottor Samuel Raven sono attacco di questa struttura credo che potremo collaborare e da affrontare il problema insieme vedremo la rota cosa c'è qua niente non abbiamo un'altra arma niente sull'altro 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 in blu indicarne questa attivazione lo diamo le teste ecco così va bene ora accolto tutto ok saluto 300 il nostro pistolla è in finito e municione in peso l'italia è in giocato il nostro pistolla è in giocato il nostro pistolla è in giocato Bene, oh! Presenza di moneta, oltre le mani di guardia. Blocco attivato. Per valutare sono soltanto se... Diccia se... Dicci... No, quindi... Se dici, se dici... No, se dici soltanto... Oh! Oh! Ah! Sono pochi, eh! Ho, ho! Ho, ho! Ho, ho! Che bellozza! Dove sei, dove sei? Ui... Oh! Ah! di nuovo non li ho usciti tutti risercia demoniaca eliminata blocco annullato abbiamo finito ci sono delle munizioni quando vado la sopra o salta così in alto la grafica è forte ok continuiamo non possiamo permettere che lasci questa struttura che dovrebbe rovinare tutto quanto sono disposto a prendermi la responsabilità degli orribili eventi delle ultime 24 ore che succede? devi assolutamente capire una cosa il nostro interesse nel loro mondo è la soluzione dell'unità chiaramente ora ci è sfuggito tutto il coltivato avevano la pena di correre il rischio però assolutamente non abbiamo tutto festa ai di doom sangue dappertutto siamo fuori quest'u'intriga intorno a avanti ciò con cento metri poi max ma che c'è una buona collierà premio 200 200 200 200 ma il fuoco il fuoco il fuoco il fuoco il fuoco il fuoco ma è il suo spettacolare come il fuoco 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 Andiamo Qualcuno spara Ano te le andiamo Oh 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 non c'è l'ultima salute 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 abbiamo che gara troppo bene abbiamo un tiro salute andiamo da questa parte oh oh sono forte non posso non posso siamo ma lento contro contro attra 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 Non so far Il caso di farlo Il caso di farlo Che successo Sono morto ? Hai ovo tifit si le Torniamo qua tutto bene. Abbiamo bisogno, bisogno della armatura. Ok, 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 ok. No. Torniamo. grazie che ci sono le falsi e ci sono le falsi e ci sono le falsi un'ombola da Thanos e stavo facendo prima a che è un short time questo e uuu Uuu oh sono tanti wow saluta un po' saluta da qualche parte è morto ok e piano piano impariamo saluta 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 andiamo di qua siamo al massimo non c'è solo un gatto non c'è solo un po' il suo buon colo Alla prossima. Grazie a tutti. No c'è, dove c'è? Salto Morì Morì, dove c'è? Morì, dove c'è? Morì 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 Non c'è Non c'è Forse qua Io dove devo andare? Di là Andiamo sotto Oh, non c'è l'ho vista E E E Non c'è No, no, no. Facciamo un po' di platform Siamo tornato qua C'è qualcosa di più Che cosa costa C'è qualcosa di più C'è qualcosa di più C'è qualcosa di più C'è qualcosa di più Oh no Oh no C'è qualcosa di più C'è qualcosa di più Oh no Oh no Saluto 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 C'è qualcosa di più Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Siamo morto No no